Ciao ragazzi! Buongiorno! Ci sono anch'io! Ci sono anch'io! Anch'io! Io sono Eri! E io sono Dominique! E chi siamo noi? Dillo! Chi siamo noi? Dillo! 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 Dillo sì! Dillo sì! Dillo sì! E voi siete i Dinsiemini? I Dinsiemini sì! E se non siete ancora dei Dinsiemini dovete assolutamente esserlo iscrivendovi a questo canale attivando anche la campanellina! E lasciando un bellissimo like a questo video! Avete 5 secondi per fare queste 3 azioni! Da ora! Via! 1 2 3 3 4 Aspetta aspetta! L'ultimo secondo dura di più! 5! 5 sì! Se siete riusciti scrivete nei commenti il numero in cui noi siamo arrivati a contare quando voi avete finito! E oggi vogliamo ricordarvi una cosa importante! Che vi avevamo già anticipato qualche giorno fa! Infatti saremo all'Etna Comics! La sera che si terrà a Catania dal 30 maggio al 3 giugno! E noi saremo lì in questi giorni e ci potrete trovare alla YouTube Halley! Speriamo di incontrarvi molti! Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Mi hai portato una cosa? Sì. Che cosa mi hai portato? Un regalo, un regalo. Mi hai portato una cosa scura. È una cosa fantastica, una cosa troppo, troppo bella. Che cosa? Non puoi neanche immaginare. È qui, l'ho portata. Però no, aspetta, aspetta, aspetta. Però è giù, perché è... Aspetta! Aspetta. È giù. È un pacco molto grosso ed è molto pesante, quindi... Un pacco grosso? Un pacco pesante? Cosa c'è dentro? Dov'è? Dov'è giù? È giù, nella scala. Nella scala. Andiamo da prendere! Vai! Dai, attento, ce la fai. Ma è pesantissimo! Forza, sei arrivato ormai. Ma cosa c'è qua dentro? Te l'ho detto, è troppo pesante, non potevo salirlo io. Ma cos'è? Cos'è? È una cosa fantastica, credimi. Ma chiudila la porta? Forza, apri, apri. Rimarrai troppo sorpreso. E anche io rimarrò sorpreso. Apri, apri! Ma sono bellissimi! Ma sono bellissimi! Sono i nuovi schifido il Plasti Slime! E guarda quantini ho presi! Ma sono tantissimi! Ma quanti ne hai presi? Lo so, sono un sacco! Usciamoli, vediamo. Mamma mia! Wow, ma quanti sono? Ok, stavolta abbiamo esagerato. Ma sono troppi, guardate ragazzi! Ma che potenza ci è? Ragazzi, abbiamo il tavolo pieno e ce n'è ancora! Ok, non ci sei più. No, ma sono troppo belli. Guardali, posso riempire la tavola. Wow, guarda! Ok, ma adesso dobbiamo aprirli. Apriamo lui, apriamo lui. Eccolo qui! Vediamo, vediamo, vediamo io, io lo voglio prendere io, tieni! Ma tu li porti a me e li vuoi aprire tu! Sono troppo curiosa, non li ho mai provati e oggi li andremo a scoprire insieme. Infatti, sono nuovissimi perché sono i primi plastic slime Schifidol. Fatti con una ricetta nuovissima che non li fa seccare mai! E dai, apriamoli, dobbiamo assolutamente aprirli. Spostiamo, spostiamo, facciamo largo. Ok, dai. Quanti colori! Sono fantastici! Esistono sei set di colori diversi. E la cosa più incredibile è che ogni confezione contiene sette colori diversi. Infatti, è il primo slime ad avere sette colori in uno. Dai, 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 dobbiamo aprirli tutti! Ok, adesso dobbiamo aprirli tutti con calma e in ordine. Giusto, giusto. Piano, non così! Allora, io voglio aprire questo qui, che è il Sunset Box, che è quello che ha i colori del tramonto. Guardate! È troppo bello! Guarda che colori! Aspetta, aspetta, voglio aprirlo subito. Ma che confezione carina! Ma è morbidissimo! E poi è anche super modellabile! E fa tantissimo odore! Ma che succede se prendo un altro colore, ad esempio il viola, e lo unisco insieme al giallo? Posso creare tantissime tonalità nuove! Prova! Guarda! Wow, diventa fantastico! Guarda, si sono mescolati! Chissà quante tonalità si possono creare con tutti questi colori! Ma infinite! Dai, voglio aprirla anch'io, voglio aprirla anch'io! Ma perché devi essere sempre così disordinato? Allora, adesso io voglio aprire quello dei sogni. Guardate, è la Dream Box, ovvero quello con i colori dei sogni. Che colore hanno i sogni? Apriamoli e lo scopriamo! Wow! Guardate! Ma sono dei colori fantastici! Ci sono i miei colori preferiti, praticamente! È veramente morbidissimo! No, mi piacciono tantissimo! Proviamo a mischiare il rosa chiaro con lilla. Verrà un colore fantastico! Guardate! Guardate, è fantastico! E ancora, ancora, mettiamo altri! E se lo mettiamo tutti insieme, verrà qualcosa di fantastico! Wow, è fantastico! Guardate! Ma dobbiamo assolutamente aprire gli altri! Adesso abbiamo quello con i colori dell'arcobaleno, quello con i colori dell'unicorno! Wow! Quello con i colori dell'alba e quello con i colori delle sirene! Forza, voglio assolutamente aprire quello con i colori dell'unicorno! Sarà fantastico! Wow, guarda! Sono proprio i colori che ricordano un unicorno! Guardate, sono fantastici! Ed è vero, hanno un odore buonissimo! Vediamo quello con i colori dell'arcobaleno! Guarda! Questi sono colori molto accessi e brillanti, guarda! Sono veramente belli! Sono i sette colori dell'arcobaleno! Fantastici! Adesso vediamo i colori dell'alba! Guardate! Colori chiarissimi! Wow, che belli! Tutte le tonalità di rosso, arancio e giallo! E l'ultimo è quello con i colori delle sirene! Guardate! Guardate! Ha tutte le tonalità dall'azzurro al verde! È bellissimo! No, veramente anche questo è bello! Non saprei decidere qual è il mio preferito! Sono bellissimi! Guardate, questo è proprio bello! Anzi, anzi, mi è venuta un'idea! Visto che è troppo difficile scegliere il mio set preferito da tutti questi colori, perché non creiamo il nostro set? Ovvero, scegliendo sette colori tra tutti che sono i nostri preferiti! Sette tu e sette io? Sì! E creiamo i nostri box! Box Dominique e box Eric! Dai, dai! Voglio scegliere il mio! Wow, sono tutti bellissimi! Questi sono tutti i colori esistenti! Adesso ne sceglierò sette che saranno i miei preferiti! Allora, deve assolutamente esserci il rosa! Anche questo azzurro non è male! Questo azzurro che ricorda un po' il colore del mare! Poi sceglierei anche questo lilla! Questo lilla qui è carinissimo! È un lilla unicorno! Poi e poi... Ah, ma anche questo rosa chiaro! Anche questo rosa chiaro è carinissimo, in effetti! E il giallo! Il giallo! Anche il giallo è bello! Però questo verdino, questo verdino, secondo me, è troppo carino! Ma per finire, accanto a questo verdino, io vedo assolutamente benissimo questo fucsia! Fantastico! Ragazzi, ho deciso! È questa la Dominique Box! Ci piace? È bellissima! Ok, ma anche io ho la mia! Guarda, guarda! Abbiamo aperto dei colori nuovi! Il primo colore che deve entrare nel mio set deve essere questo azzurro qui! Poi, io metterei questo giallo, poi questo verde, questo arancio qui, questo blu scuro, perché non l'ho preso prima? A me piace molto il verde, quindi sceglierò una di queste tonalità, sono davvero bellissime! Questo qui, che è molto particolare! Questo giallo qui, questo qui è più chiaro! Questo è il mio set! Il set di Eric! Wow, anche il tuo è carino! Lo so! No, è il più bello! No, ma quello è più bello? Il mio è più bello! Anzi, facciamo così! Decidete voi quale vi piace di più! Voi preferite il set di Dominique? O il set di Eric? Però, dovete assolutamente dirci anche quale tra i sei set fatti dalla Skifidol vi piace di più! A te quale piace di più? Questo qui! Quello delle sirene! A me, quello dei sogni! Mi è piaciuto sin dall'inizio, è fantastico! Ok, io mi devo conservare il mio set! Lo mettiamo in una scatolina, tanto siamo pieni di scatoline! Bellissimo! Ferma! Adesso voglio fare una cosa pazzissima! Cioè? Abbiamo già mescolato qualche colore, ma se li mescolassimo tutti... Oh, non lo so che cosa ne verrebbe fuori! Un colore bellissimo! Ok, proviamoci! Vai, cominciamo! Wow, possiamo creare una palla gigante super colorata! Ragazzi, guardate! No, sono troppo belli tutti i colori insieme! Guardate, è fantastico! Yo! Yo! Potete anche farci una collana! Guarda! Si avviene la nostra magliettina! E poi è anche super elastico, non si rompe! Ok, io voglio continuare la mia palla gigante! Wow, che questo è per te! Che carino! Ok, devo assolutamente aprirne altri! Anch'io voglio fare come fatto tu poco fa! Sì! Eh! Forse ne abbiamo un tantino tanti! Guarda che palla colorata! Sono bellissimi perché si possono fare veramente tantissime cose diverse! E penso che ci faremo un bel po' di cose! Anzi, ne sono sicura! Ancora, 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 ancora! Non mi basta! Dobbiamo aprirne ancora! Vai, 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 vai! Sto diventando pesantissima! Ok, noi siamo messi che tiriamo, ma poi dovremmo ripulire tutto! No! No! La palla del potere! Che odore che c'è in questa stanza, ragazzi! Ora che li stiamo aprendo tutti, sono incredibilmente profumati! Wow! È piantissima! Palla, la palla! Aspetta, aspetta, ce ne è ancora! Ready, ready! Vai, vai! Oh, caro! Ci siamo! Ragazzi, è la palla di pasti slime skilli la più grande del mondo! Guardate, è bellissima! Così piena di colori! No, gira, la gira, la fai vedere! Ragazzi, è veramente fantastico quello che si crea mischiando tutti i colori! Aspetta, aspetta, aspetta! L'idea folle che mi è venuta poco fa è nulla in confronto a quello che sto per dirti! Cosa? E se la lanciassimo da un posto alto? E dove? Quale sarebbe il risultato? E se la lanciassimo dal tetto! Ok, ci sto! Dai! Andiamo, dai! Certo che tu ormai hai preso troppo di mistichezza con questo tetto! Ormai non ho più paura di niente! Aspettami, aspettami! Ok, devo prima passarti questa palla gigante! Tieni! Ok, ma quanto pesa! Siamo di nuovo sul tetto! Mi è mancato! Ormai è diventata un'abitudine! Mondo, ammira la palla del potere! La lancieremo dal tetto alla giù! Ok, secondo me andrà in mille pezzi! O resterà intera, tu che ne pensi? Esplode! Non lo so, scopriamolo! Ragazzi, stiamo per fare la cosa più pazza che abbiate mai visto! Siamo per lanciare la palla più grande del mondo di pasti slime schifido dal tetto! Odore! Fa un odore incredibile! È peccato lanciarla! Però vogliamo troppo sapere che succederà! Ok, sei pronto? Sì, ma facciamo una cosa! Io scendo giù e sarò lì a riprendere subito il risultato, ok? Voi siete pronti? State attenti! Scendo! Ciao! Ciao! Ok, sei pronto? Prontissimo! Oddio, cosa succederà? Dai, andiamo! Al tre! Uno, due, tre! No! È rimasta intera! Ragazzi, è incredibile! Si è solo leggermente ammaccata! Aspetta, aspetta, te la ritiro! Ci provo, ci provo! Non è facile con la telecamera in mano! È pesante! Aspetta, appoggia la telecamera! Ok, ci riprovo! No! È troppo pesante ragazzi, credetemi! Vai! Ce l'ho fatta! Ehi, tutto a posto lì, su! Vai, ritentiamo un'altra volta! Uno, due, tre! Ah, aiuta! Ragazzi, non so se sentite il rumore che fa quando tocca a terra! Basta! Abbiamo scoperto che cosa succede! È resistentissima! Forza, scendi! Scendi, arrivo, arrivo! Ok ragazzi, oggi noi ci siamo divertiti tantissimo! Si, è stato proprio bellissimo! E vi diciamo che se volete acquistarli anche voi, li potete trovare in tutte le edicole al prezzo di 3,50 euro a confezione, con il magazine incluso! E fateci sapere se li prendete, se li provate e che cosa ne pensate! Ma mi raccomando, ricordatevi di dirci qual è il vostro set Skifiddle preferito tra questi sei! Ma anche, quale preferite tra il set di Dominique e il set mio! Che abbiamo creato poco fa! Scrivetecelo nei commenti! E adesso, lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video! E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina! E seguiteci su Instagram, ci trovate come dinsieme.official! E oggi salutiamo... Giada Gatto! Gloria Segreto! Giulia Tommasi! Masha Regoli! E Luigi Gamer! Ho vinto! Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi, vi vogliamo troppo bene! Vi ricordo che siete proprio i più belli, i bellissimi bellissimi! Ma come fai a tenerlo ancora in testa? Secondo me ti tiene fermo per i capelli! Ah, c'è il trucco! E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video, ciao! Ciao! Non gli accade! Pa, 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 pa Grazie a tutti.